La morte non è nulla, sono solo andato nella stanza accanto Mi chiamo Richard, ho 32 anni e ho deciso che voglio arrivare ai 34 Da quanto sta di essere seropositivo? Due anni Sono Tim E io John Lo so Tu e John non vi potete più vedere John non puoi più vedere E tu non puoi più essere invitato dal canale Il mondo intero era ai nostri piedi E nessuno ci avrebbe tolto quello che ci eravamo presi dall'alto dei nostri tanchi a spillo Sono terribilmente dispiaciuto Siete entrambi positivi Voglio stare a spillo per tutta la vita E poi voglio vivere un giorno un'avventura E voglio costruire una macchina del tempo e tornare indietro E voglio trovarle sconfiggere e portarti con me per sempre John Sorridi E penso Tutto bene Tutto bene Tutto bene Tutto bene Tutto bene